Siamo già tracinata dal numero 9 Daniele Cannas, quest'oggi a furor di popolo, nominato capitano della squadra, ha già segnato 6 gol e lotta per vincere il titolo di capo cannoniere, le altre semifinaliste sono Napoli e Inter, ci divertiremo un mondo questo pomeriggio, sempre in live streaming, calcio di punizione direttamente in porta, il portiere in due tempi è bravo, sulla conclusione del numero 9 è Bucri, autore degli unici due gol fino a questo momento dello stiamare in campionato, entrambi contro il Gallipoli. Santana il pallone, ora può andare Cannas, che è più veloce del diretto avversario, ancora Cannas, il controllo, può puntare Punzo, Cannas in aria, Cannas, non c'è nessuno, cerca il cross interessante per Frau, mette giù, Frau col destro, pallone alto sulla traversa, chance per l'Armorese, al sedicesimo, comincia di nuoro. Si lotta a centrocampo, le lunghe leve di Bucri per lo scatto di Monfreda, il controllo in aria, Monfreda carica il sinistro a rete! Cristian Monfreda, ostiamare in vantaggio, non perfetto carta, è stato bravo però a colpire con il sinistro in aria e a tirare verso la porta, buono l'impatto col pallone, al diciannovesimo del primo tempo, l'ostiamare passa in vantaggio con Monfreda. Ha un po' di campo davanti a sé, Cannas, Cannas in aria, Cannas ancora, la palla sul sinistro, Cannas arriva il cross, il portiere non perfetto e la palla viene bloccata proprio sulla linea. E' bravo però per la nuorese, il numero 4 Matteo Moro che prova a lanciare come sempre Cannas, altro pallone in avanti per Cannas che va in velocità, Cannas, Cannas, Cannas! Eccolo il gol di Daniele Cannas! Gol di Cannas! E deve reagire al colpo subito, 3 minuti alla fine, buono il lavoro di Sibilio, ancora Sibilio, dentro il pallone per Monfreda, Monfreda in posizione regolare, Monfreda davanti al portiere, palo! Clamoroso, di Monfreda al diciassettesimo, ha fermato Caldarozzi, lancio per Cannas, che come al solito accenera, Cannas va da solo, Cannas ancora, Cannas, Cannas verso l'era di rigore, Cannas non la ferma nessuno, Cannas al limite, Cannas può calciare con il destro, la traversa clamorosa di questo straordinario giocatore, che ha fatto tutto da solo. Alla battuta per la nuorese, il numero 4, Matteo Moro, è pronto col mancino, parte Moro, è la parata del portiere Pompei. Tutti sperano nel miracolo di De Blazio, palo, palo, sfortunato di Giacinto, allora si va a oltranza. Parte il sinistro, rete! Che gol! Con decisione e precisione. E allora il settimo rigore per l'ostiamare, che non può sbagliare, Andrea Grossi, dal punto di battuta. Un momento decisivo, forse, di questa partita. Pronto Grossi. Parte col sinistro la parata! Di De Blazio e la nuorese può festeggiare la vittoria ai calci di rigore, dunque il nono posto in questa manifestazione. Eroe assoluto, il portiere De Blazio, che ha parato due rigori. Eroe assoluto, il portiere De Blazio, che ha parato due rigore, dunque il nono posto in questa manifestazione.